ciao a tutti amici scacchisti nuovo video per voi nel quale commento le partite in questa partita a tre minuti e gioco i4 quindi apertura caro canne contro il mio avversario decido di giocare una linea poco nota vediamo interroghiamo un po il bianco o meglio scusate da bianco cerco di interrogare il nero giocando la caro canne con donna f3 la spinta di 4 seppur naturale permette questa fastidiosissima alfiere c4 contro la quale lui decide di difendere il punto f7 con cavallo f6 a questo punto dico che il mio sviluppo è abbastanza semplice fisso un pedone in d3 fisso la struttura a volte mi preparo a giocare donna g3 per affiancare quindi portare un pedone sulla stessa linea del pedone più avanzato e4 potrebbe essere accompagnata dal pedone che lì in f4 potrebbe dare un po di noia ok la partita continua giocato donna g3 lui h5 direi che alfiere o meglio se giocassi f4 che succede lui mi gioca h4 mi nascondo f4 potrebbe essere un buon approccio della posizione donna f2 la nascondo lì e chiaramente minaccio possibili catture centrali cavallo f3 sviluppando i pezzi porto un nuovo attaccante sul punto e5 h3 da parte sua me l'aspettavo però adesso che chiudo tutto direi che arroccherò con iniziativa sulla colonna f questo cambio non mi piace o meglio non mi piace per lui quindi io sono contento perché ho un po di iniziativa in diretta in diretta su questo punto alfiere b4 scacco direi che potrei giocare c3 c3 mi guadagno un tempo importante forse per attaccarlo oppure gioco una mossa che a tratti qualcuno dirà ma cosa è fatto è sbagliato chi lo sa f2 questo alfiere considero che si trovi in una posizione pessima e quindi lo lascio lì non ho alcuna intenzione di cambiarlo nel mentre cerco di giocare un arroc artificiale arroc artificiale significa riorganizzare i pezzi torre 3 lì contro l'arrocco ok lui mi attacca a questo punto a 3 lo mando via torre f1 e dopo reggi 1 il mio famoso comunque già annunciato arrocco artificiale si crea completamente ok se io ho creato l'arrocco artificiale forse lui vorrà creare un arrocco reale arrocco lungo però occhio perché questo pedone f7 in realtà è un abbastanza goloso probabilmente posso catturarlo altrimenti gioco b3 b3 che mossa strana b3 chiudo questa alfiere in realtà voglio aprire la posizione sulle case chiare il pedone f7 è lì è un obiettivo l'ho considerato prima come pedone in presa fase di analisi vedremo che sicuramente il software lo considera catturabile però non c'è fretta in fondo lui deve fare attenzione all'apertura delle colonne a b c contro il suo regno ok lui cattura alfiere per nuovamente ripropongo la minaccia e mi preparo anche a giocare questa spinta a4 ok materialista io gioco a4 voglio aprire la posizione b4 è la mossa che mi aspetto non è così e allora direi che catturo non mi cattura ok torra 6 merita attenzione torra 8 altrettanto però semplicemente catturo qui la posizione si apre occhio perché il suo re come vedete è molto più scoperto del mio e quindi in fase di attacco lui deve fare molto più attenzione rispetto a me io cerco di aprire togliere pezzi o comunque sia voglio aprire delle colonne l'ho annunciato prima la colonna a la colonna b e di conseguenza anche la colonna c vogliono diciamo la sua parte quindi potrei proseguire con torre a1 perché no torre a1 lui mi giocatore a8 altrimenti vediamo se c'è qualcos'altro qualche altro possibile ingresso potrebbe venire fuori dopo la cattura magari io catturo poi porto la donna in attacco intanto non ho tanto tempo per soffermarmi poi vedremo un po e ci sono dei seguiti che sono un po più forti rispetto ad altri a tal proposito direi che il cambio delle torri mi porterà una posizione promettente e aspetto prima catturo in e5 voglio aprire degli spazi donna potrei cambiare le torri perché no oppure giocare donna f2 attaccando voglio il pedone centrale dammi questo pedone centrale perché voglio attaccarti lì al centro 30 secondi meno non c'è incremento quindi da adesso in poi magari la qualità del gioco potrebbe diminuire cambio le donne per diminuire il mio margine d'errore questo pedone h3 soffrirà un po tutta la partita perché per lui non è così facile difendere ok torre qui voglio proporre b4 per b6 la mossa che mi aspetto e cavallo d5 scacco ok b4 sulla scacchiera lui mi cattura riprenderò e altrimenti vediamo un po come prosegue la partita cavallo per d3 da parte sua pedone per interessante e ho forse cavallo f3 ma quel punto re h1 catturo cavallo per c5 mi rifaccio sul pedone centrale a quel punto è il momento per lui di attivare la torre vediamo se ci riesce cavallo f6 cerco a tratti di impedirlo cavallo d7 propongo un cambio che potrebbe interessarmi parecchio se lui non dovesse cambiare questa torre dove la porto in caso di cavallo per probabilmente ho torre per il finale che ne deriva ok questo dovrei cambiarlo scacco intermedio mi rifaccio su questo lui a questo punto cerco di eliminare il pedone h vediamo un po come continua intanto questo lo catturiamo e mi vuole dare matto forse non è questo il caso perché torre f6 tiene tutto sotto controllo siamo nella parte finale di questa partita reggi 2 cerco di difendere il pedone h è lì allegro contento pronto ad avanzare quindi devo cercare di giocare proprio su questi su queste idee forse scacco intermedio adesso anche io gli do uno scacco intermedio e lo faccio retrocedere pochi secondi sull'orologio torre h2 ok a questo punto devo cercare di cambiare il mio re conquista spazio e faccio qualcosa dimenticate quello che sto facendo perché non si dovrebbe fare vincere per il tempo una posizione pari non si dovrebbe fare ma l'ho fatto e l'ho fatto perché comunque sia la posizione era sicuramente vinta e favorevole prima e mi sarebbe dispiaciuto parecchio non vincerla e quindi non avere memoria guadagnando qualche punticino elodi che tanti e che tanti vogliono guadagnare appunto su internet il tempo una costante del gioco avere più tempo chiaramente è un vantaggio importante avete visto questa linea guardate che curiosa perché se il nero attacco un pezzo io da bianco non lo difendo il gioco alfi re c4 qual è l'idea in caso di cattura come potete intuire c'è un fantastico attacco coordinazione sulle case chiare pericolo per il re nero cavallo f6 cavallo e2 e adesso semplicemente imposto lo sviluppo con pedone d3 che re g4 intuivo che era una mossa un po strana un po dubbia effettivamente dopo donna g3 a mio avviso non ho alcun problema h5 non gli piace vediamo se c'è una confutazione immediata donna per i5 certo quel pedone bisognava difenderlo non l'ho considerato affatto mi sono immerso nei miei pensieri e dopo 10 secondi ho giocato f4 f4 era il piano iniziale perché volevo affiancare portare sulla stessa linea il pedone più avanzato f4 h4 dono f2 qui la partita continua in modo molto lineare e a questo punto dopo lo scacco mi sposto e questa ammetto che sia una scelta molto difficile da capire perché tanti video o comunque sia in tanti sappiamo quanto possa essere importante mettere al sicuro il nostro re in questo caso il mio re non è affatto al sicuro o meglio è inattaccabile quindi il fatto che sia inattaccabile comunque si mi dà un po di sicurezza quando per qualche ragione avete mosso il re e quindi siete stati costretti a giocare qualcosa che possa anche non piacere ricordate che ciò che potrebbe essere importante è creare questa rocco artificiale quindi io muovo la torre nascondo il re e qui è come se non fosse successo nulla il re bianco lì al sicuro nessuno l'attacca più e adesso la partita prosegue come vi dicevo la cattura del pedone f7 potrebbe essere un obiettivo l'ho scartata a priori non perché sia sbagliata non perché temo chissà quale contro gioco ma perché è un punto è un obiettivo che così come esiste adesso esisterà anche dopo e quindi se io gli creo un'altra minaccia come l'apertura della colonna laterale a quel punto lui deve fare attenzione e giocare per forza delle mosse passive e questo mi permette così come avete visto di accelerare lo sviluppo vediamo un po cosa accade qui io ho catturato quindi controllo totale della colonna e il vantaggio secondo il software è un vantaggio importante adesso ho quasi tre punti e mezzo di vantaggio quindi vuol dire che è una situazione favorevole ed effettivamente questa situazione favorevole probabilmente si concretizza così io catturo sviluppo l'alfiere porto rapidamente le torri in gioco ho deciso di fare più o meno lo stesso attaccando quell'alfiere però per un'altra diagonale e raggiunta questa posizione direi che come avete visto qui ho 30 secondi si vede se fate attenzione nella parte in basso della scacchiera vedete il mio tempo nella parte di sopra vedete il suo quindi 30 secondi per me un minuto per lui ho dovuto accelerare e quindi ho fatto scelte pratiche e per le quali cerco di cambiare tutto in una posizione non molto difficile per me da giocare ok cavallo f6 adesso cavallo d7 voglio cambiare la situazione è assolutamente equilibrata e quindi cambiate questo questo pedone sicuramente il finale è pari tuttavia bisogna fare attenzione perché c'è una differenza tra bianco e nero la differenza è questo pedone io potrei provare ad attaccarlo e per lui potrebbe essere difficile difenderlo però facciamo attenzione perché quando io attacco questo pedone lui in realtà dovrebbe cercare di giocare per l'attività giocare per l'attività significa migliorare questa torre migliorare il re forse per esigenze di tempo o forse per qualche errore di calcolo qui siamo nella parte finale 12 secondi per me 17 per lui e diciamo si è fatto attrarre da questo miglioramento del re che in realtà porta una posizione persa catturato il pedone h ho un pedone in più libero libero di promuovere e quindi mi limito a migliorare ulteriormente la mia posizione per avanzare il pedone 6 secondi per me 9 per lui e qui ammetto che ho giocato mosse rapide poco precise semplicemente per fleggarlo fleggarlo a un tipico verbo che riguarda le partite su internet in cui si fanno mosse per far sprecare tempo all'avversario ad ogni modo il finale continua a essere vinto qui avrei dovuto giocare torre qui per impedire f4 che sta sfruttando l'inchiodatura della torre sulla traversa per poi concentrarmi con l'avanzata del pedone h ho giocato delle mosse istintive e qui non resta di meglio che appunto purtroppo adesso due secondi contro uno non ho neanche il tempo di offrire patta perché se offressi patta magari perderei per il tempo e chiaramente si concluderebbe in parità e tuttavia come avete visto la partita prosegue tensione mosse istintive vinco per il tempo detto questo spero che questi contenuti vi siano piaciuti l'invito è quello di seguire il canale mettete like e appuntamento alla prossima ciao a tutti